Il nostro sommario, fumo, bisogna evitarlo soprattutto se si è in gravidanza, sportello mediazione culturale, è un servizio al cittadino straniero integrato, al fracastoro, spisal, la cultura della sicurezza si impara anche a scuola, animali con le nuove regole sono sempre più presenti nei condomini, aida, uno spettacolo al filarmonico anche per parlare di integrazione scolastica e per concludere la ricetta della salute.